È un provvedimento che penalizza pesantemente le imprese italiane cercando di dare risposte sbagliate a delle procedure di infrazione assolutamente legittime perché introduce ad esempio la possibilità della sperimentazione degli OGM in Italia quando è stata fatta una battaglia da tutti e tutti quanti non vogliono la sperimentazione OGM in Italia fra l'altro è stato inserito l'articolo nella notte proprio in maniera furbesca ma ormai in stile pienamente renziano di fare questo tipo di forzature. Poi ci sono tanti altri piccoli passaggi all'interno della legge che rendono sempre più difficile la vita ai cittadini in momenti di difficoltà quindi per un fatto di coerenza, per un fatto di rispetto nei confronti dei cittadini abbiamo votato convintamente contro questa legge europea.